Sicuramente 11 contro 11 qualcosa di più potevamo rischiare. Come si è messa la partita un tempo con il meno è stata difficile, però abbiamo tenuto un punto da grande squadra, da grande gruppo e questo di sicuro ci tiene più uniti per quello che arriva. Sicuramente il mister mi ha dato delle armi in preparazione che le ho capite subito e per quello mi sta dando questa fiducia. Sicuramente anche in campo sta dimostrando quello che vuole il mister. Pescara neanche tanto fortunato, Gaston rigore sbagliato a Roma, rigore sbagliato questa sera, dal dischetto c'è qualche problema. Memuschai e Caprari sono i rigoristi del Pescara. Brugman non ha mai calciato i rigori, potresti avanzare la tua candidatura per le prossime volte? No, non cerchiamo di mettere che noi abbiamo fatto gol sul rigore, non mettiamo pressione su questo perché siccome prima c'era che non facevamo gol allora diciamo che tutto è negativo e dopo ci genera che non facciamo gol. Quindi pensiamo che il prossimo lo mettiamo, calcio a qualsiasi compagno e così facciamo gol. La domanda è quella che purtroppo si fa settimanalmente, questa vittoria che ancora arriva a livello psicologico comincia a essere un po' un peso il fatto di non riuscire a portare a casa i tre punti. No, no, ma noi siamo umili, sappiamo la nostra strada, sappiamo che abbiamo giocato contro le prime partite contro grande squadre, era difficile ottenere la vittoria. No, pensiamo questo, pensiamo partita dopo partita, ora pensiamo alla prossima e come abbiamo fatto oggi usciremo in campo per vincere. Al tifosi non possiamo dire niente che dalla prima giornata fino ad oggi ci hanno sostenuto sempre anche se non ancora non arriva la vittoria, quindi applausi per loro anche.